Il Popolo della Libertà Alto Tosino depone una corona al monumento di salvo d'acquisto a Bolzano per commemorare i sei parà caduti a Kabul. Con una semplice ma significativa cerimonia, stamane il PDL Bolzanino ha voluto commemorare l'attentato di giovedì scorso a Kabul dove hanno perso la vita sei parà italiani. Una delegazione cappeggiata dalla deputata Michela Biancofiore e dai consiglieri provinciali Alessandro Urzi e Maurizio Vezzalino che alcuni consiglieri comunali ha deposto una corona alla base del monumento al carabiniere salvo d'acquisto nel parco Ghim a Bolzano. In una giornata tanto triste ci sembrava doveroso venire al monumento a salvo d'acquisto perché salvo d'acquisto si immolò per la libertà, si sacrificò personalmente, era un uomo in divisa, un carabiniere. Quindi è per noi un esempio di cittadino in armi che è disponibile a mettere in gioco la propria vita per il bene collettivo. Una giornata tanto triste era giusto un segno di testimonianza anche da parte nostra del popolo di libertà nei confronti dei caduti, diciamo degli eroi di Kabul. Il giorno della strage, mezza, anzi più di mezza Italia politica si è fermata. A Trento il consiglio provinciale è stato interrotto, a Bolzano un minuto di raccoglimento. Com'è da considerare? Un minuto di raccoglimento ovviamente molto sentito, devo dire trasversalmente sentito questo mi ha fatto indubbiamente piacere. Non è stata sospesa la seduta, ma devo dire che forse è stata una conquista anche ottenere quel minuto di silenzio. Nel passato avvenimenti anche molto tristi, sono passati inosservati. Lunedì prossimo alle 11 nel Duomo di Bolzano, alla presenza del comandante delle truppe alpine, generale Alberto Primiceri, verrà celebrata la Santa Messa in ricordo dei caduti di Kabul, le cui salme giungeranno domani mattina all'aeroporto romano di Ciampino, in Italia, a bordo di un C-130 dell'Aeronautica Militare.